Oh via! Dopo un'ora in basso l'attesa, la vita è arrivato! Alleluia! Guarda che fa filmare da vicino? Non ti aggrappare lì, non sei pazzo! Tira Cipri, tira! Spergera! Spergera! Nattro barahuda? No. No? Cosa è quello? Spergera! Non vi aspetta che? Non ci so, che ci sono? Non ci so, non ci so. Non ci so, non ci so. Non ci so. Oh, fammi con la mia per favore. Eh? Ma sì? Dove è? Come l'hai messa Ciccio? Prenditi, prenditi. Ah, sta prendendo Adrian? Ed è Cipriano che è preso ed è intento a tirare su, è meraviglia. C'ha già la schiena sudata a Pradicia. E si chiama, sentiti proprio, guarda. Che si attrava, vai, 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 vai. sempre sempre si fa sempre rosare questa è un'attesa lunga vai questo è l'entorno stasera anche il filetto di sonno vale fantastico è stato molto qualissimo ma che è? ma che è? ma che è? un pezzo Wow! Fantastico! Ma che pece è? Wow! Butta dentro, butta dentro, vai! Tielo eh, ti preoccupare! Grande Cipri! Grande Cipri! E Cipriano è il vincitore! Cos'era? Un po' di pesce! Un po' di pesce! Un po' di pesce! Un po' di pesce!